Altre notizie importanti nel giornale. La prima, l'annuncio che tornerà in Italia Enrico Forti. La battaglia per la sua libertà dura in realtà da un ventennio, da quando, vent'anni fa per l'appunto, fu condannato a una pena gravissima, all'ergastolo di fatto, in Florida per un delitto che lui ha sempre giurato di non aver commesso. In questi decenni sono emerse molte contraddizioni e appunto questo pomeriggio, nel tardo pomeriggio, è stato il nostro Ministro degli Esteri Di Maio a annunciare che la Florida e gli Stati Uniti hanno concesso quello che è nei diritti italiani e del recluso, cioè di venire a scontare il resto della sua condanna in Italia. Vedremo poi cosa succederà. La notizia è stata salutata favorevolmente da tutto l'arco politico, come vedremo. C'è una buona notizia, una notizia positiva per una battaglia che è stata di tanti e che è durata vent'anni e che riporta in Italia, e chissà, porterà in libertà anche prima o poi Enrico Forti, dopo una storia veramente dura, difficile, contestata. Dopo vent'anni di prigione negli Stati Uniti, Enrico Forti potrà rientrare in Italia. La notizia l'ha data il Ministro degli Esteri Di Maio, chiamando Enrico col soprannome col quale è noto agli amici alla stampa, Chico. Il 61enne imprenditore di Trentino potrà dunque lasciare la prigione di massima sicurezza di Miami, avvalendosi dei benefici previsti dalla Convenzione di Strasburgo. Ha precisato Di Maio, che ha ringraziato il segretario di Stato americano Mike Pompeo e il governatore della Florida, che ha accolto l'istanza di trasferimento in Italia. Enrico Forti, noto velista e imprenditore televisivo, si trova, come dicevamo, da vent'anni recluso dopo una condanna per omicidio. Chico all'inizio degli anni 90 si era trasferito in Florida, dove aveva iniziato ad investire nel settore immobiliare e altre attività. Il 15 febbraio del 98 venne accusato dell'omicidio del figlio del proprietario di una discoteca che Forti stava acquistando. Ergastolo, senza condizionale. Forti, che durante questi anni si è sempre proclamato innocente, ritiene ancora oggi di essere vittima di una vera e propria macchinazione. La storia inizialmente è stata fuori dai riflettori del nostro paese, ma recenti inchieste giornalistiche hanno fatto emergere molti punti oscuri, incluse la mancanza di testimoni, di prove precise e nonché il movente a suo carico, oltre a molti errori, negligenze e approssimazioni sia da parte della polizia che della magistratura giudicante.